In Italia sono stati rilevati oltre 2 milioni di immobili fantasma. Se sei proprietario di un immobile non iscritto al catasto o chi ha subito modifiche, hai tempo fino al 30 aprile per registrarlo. Risparmierai su oneri e sanzioni ed eviterai l'accertamento dell'Agenzia del Territorio. Informati, è più facile di quel che pensi. Chiama il numero verde o vai su agenziaterritorio.gov.it. Ricorda, hai tempo fino al 30 aprile. Grazie a tutti.